Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È morto lo storico conduttore televisivo. Ha vinto per 19 volte l'Emmy. È noto tra le altre cose. Per aver condotto il più longevo programma televisivo nella storia della televisione americana, ovvero The Price is Right, in Italia conosciuto e trasmesso con il nome di OK il prezzo è giusto. La prima messa in onda della trasmissione risale al 1956, per poi essere ripresa nel 1972 sotto la sua guida fino al 2007. Di chi stiamo parlando? Si tratta il conduttore televisivo e radiofonico cui abbiamo fatto riferimento e Bob Barker che è morto alla veneranda età di 99 anni nella sua casa di Los Angeles. Pensate che il programma va ancora in onda e tra i produttori figura anche Aram Sandler.